A Teramo i certificati anagrafici come il certificato di residenza, lo stato di famiglia, tranne la carta d'identità il cui rilascio è subordinato al collegamento con canali ministeriali, possono essere rilasciati anche in tabaccheria nell'ottica di semplificare i servizi per i cittadini che in tal modo non dovranno necessariamente recarsi in comune per ottenerli. Si tratta di un innovativo servizio avviato nella città di Teramo per prima, sia tra i capoluoghi ebruzzesi che tra le località della provincia. Nato con una convenzione siglata tra il comune di Teramo e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, a cui hanno aderito 15 attività dislocate nelle varie aree del territorio. C'è stato il taglio del nastro virtuale presso una tabaccheria di San Nicolò che è stata indicata dalla Novares, cioè l'associazione di tabaccai, e proprio da ieri tutti i cittadini potranno rivolgersi al tabaccaio di fiducia e richiedere i propri certificati. Il coinvolgimento sul territorio dei tabaccai è un'operazione molto importante, soprattutto perché serve anche per facilitare l'accesso alle varie certificazioni per i cittadini. Tant'è che proprio da ieri chiunque può spostarsi pochissimo a casa, quindi evitare le code che si formano negli uffici, e ottenere il certificato di cui si ha bisogno. Attualmente sono 15 tabaccherie, naturalmente è un work in progress, nel senso che è logico che nel futuro si presuppone che tantissime altre aderiranno a questo progetto, che è un progetto unico in provincia e anche in regione Abruzzo. Siamo il primo comune a partire con il coinvolgimento dei tabaccai e credo che sia un'operazione veramente strepitosa, proprio perché siamo riusciti a modernizzare sempre di più l'ufficio anagrafe. Ricordo infatti che nei mesi scorsi abbiamo anche attivato la certificazione online, cioè quel procedimento con il quale il cittadino già da casa può scaricarsi tutti i certificati di cui è bisogno senza uscire dalla propria abitazione. Tutto questo è merito anche dell'assessore Sara Falini, che tra l'altro precedentemente aveva questa delega, aveva già posto le basi per sviluppare il coinvolgimento delle tabaccherie.